Il nord-est è super aperto all'innovazione, perché è un territorio super frizzante, dove c'è tantissima attenzione a quello che sta succedendo fuori, per cui, come ha sempre fatto, innovando su tantissimi fronti, è aperto anche in questo momento a guardarsi attorno su queste cose che stanno accadendo anche nel nostro mondo. Noi, se siamo diventati una struttura abbastanza importante nel nostro mondo, è dovuto principalmente al fatto che ci troviamo qui, dove c'è una cultura di impresa molto forte e dove c'è una grandissima attenzione a quello che succede nei mercati, quindi un'apertura abbastanza naturale verso il fare le cose. Grazie a tutti.